ok allora in questo video vedremo un attimo che cosa sta succedendo quindi come relazionarsi a causa del coronavirus di cui tutti quanti siamo molto preoccupati quindi questa cosa sicuramente ha condizionato le relazioni interpersonali quindi dinamiche sociali cosa succede che adesso non vai più a prendere il caffeino o l'amichetto perché c'è problema che non puoi uscire non puoi stare quindi imparare a stare da solo quindi la cosa fondamentale è affrontare ecco la dinamiche sociali quindi le relazioni interpersonali durante questa sorta di periodo di costrizione fastidioso ps deciso di fare video in italiano perché probabilmente molto più facile per me ovviamente a livello proprio linguistico avevo pensato di andare a fare video inglesi per entrare su un pubblico magari maggiore però non ne sarei poi così soddisfatto a livello proprio linguistico preferisco parlare in italiano e anche scrivere in italiano quindi la cosa fondamentale qual è in questo video è appunto cercare di fare il punto della situazione in base appunto a quello che sta accadendo in una seconda cosa sta accadendo col coronavirus cosa sta accadendo sta accadendo che le persone non escono più sono state restrizioni un po particolari specialmente a roma adesso mi pare che non si possa neanche più andare a correre al parco ma fino a ieri c'era gente che correva al parco che andava a divertirsi la vedevi che faceva jogging la coppia di obesi che non va mai a fare jogging ieri la vedevi che usciva che non fanno mai attività fisica loro il loro quando c'è coronavirus giustamente escono vanno a fattività fisica perché per principio di scarsità come vedi principio scarsità si applica non solo nelle relazioni sentimentali o comunque nella vita in generale nel mercato ma si applica proprio anche nelle condizioni stupide come queste ai togli il giocattolo vuole il giocattolo però tornando facendo un sulta situazione come appunto tenersi tra virgolette bene specialmente per chi appunto vuole fare seduzione ai tempi del coronavirus per chi vuole migliorare a livello sociale la cosa fondamentale qual è utilizzare quello che ci dà ovviamente mark zuckerberg quindi facebook che io non avviso ovviamente se non in tempi estremi instagram chiaro poi ci sono ovviamente app dating online quindi tinder classico ci sono altre app credo anche lovo queste cose qui o comunque vabbè l'idea è quella di rimanere online quindi tenere in contatto online soprattutto le persone che si frequentano quindi come mantenere poi tra virgolette anche i rapporti sociali con le persone che frequenti che già frequentato prima di queste restrizioni se appunto non convivi ecco una cosa che puoi fare quindi puoi mettere in pratica è quella appunto della video call quindi una video call magari una volta ogni cinque giorni una volta a settimana per vedere appunto la persona o addirittura semplicemente aumentare il radio di messaggi quindi scriversi un po di più queste sono avvisi molto stupidi molto semplici lo riconosco molto basilari ma anche con i parenti con le persone in generale quindi nel sociale la cosa fondamentale è quella di aumentare i contatti a livello di messaggi quindi messaggiare di più che è una cosa che io sconsiglio in generale a me sta proprio sul cazzo messaggiare costantemente mi dà fastidio comunque passare molto tempo sul social ma passare molto tempo sul nonostante io pubblichi molto ma pubblico molto in merito a quello di cui parlo mi sta sul cazzo l'idea di dover messaggiare preferisco appunto vedere una persona eccetera quindi quello sarebbe più avvisato più raccomandabile ovviamente non si può fare quindi suggerimento palese video call skype call facebook call chiamatela come volete voi insomma una video call una video chiamata che puoi fare con le persone con cui ti relazioni che frequenti non puoi fare non si può uscire quindi nel senso non si può fare nulla raccomandazione generica rimanere a casa esci solo a fare la spesa come vedete che faccio io esci solo a fare la spesa o per lavorare se lavorate ovviamente dovete andare al lavoro mi auguro che lavorate perché comunque questa è la io penso che questa sia soltanto il precursore in italia in default e basta perché comunque l'economia completamente bloccata non c'è non c'è alcuna via di scampo se non riprende l'economia e inoltre credo come ho postato su instagram che una che questa pandemia sia una grande esagerata sia una esagerazione finalizzata a resettare un po' quella che l'economia generale sono specialmente quella italiana che già sta andando sta crollando poi quelle degli altri paesi sicuramente subiranno un calo a primis proprio drastico quella italiana quindi di fondo come coltivare quindi la seduzione tempi del coronavirus tra virgolette quindi come migliorare a livello sociale e sedurare tempi del coronavirus non puoi usa tinder usa instagram c'è un articolo che ho pubblicato sul mio sito che si chiama come inizia la conversazione se stanno con una ragazza e lascio il link in descrizione e questo ti può aiutare magari a conversare o magari ad approcciare delle persone su instagram se vuoi appunto approcciare una ragazza su instagram a capire come puoi farlo perché ti ricordo inoltre che instagram manda i tuoi messaggi spam quindi se per esempio tu vedi una ragazza che ti piace su instagram e vuoi approcciarla non puoi perché la tua chat o il tuo messaggio finirebbe nello spam chiaramente dovrebbe darti il follow back per farlo facebook idem di aggiungere amici tinder è un'app di dating online ottimo magari sicuramente adesso che stanno tutti in casa sicuramente tutti utilizzano tinder quindi puoi coltivare delle conoscenze online messaggiando molto in quel caso ti suggerisco di usarle in altri casi quindi nei casi di non pandemia quindi non estremi come quelli che sono adesso come questa situazione lockdown completo del paese ti suggerisco di invece optare per il sociale quindi frequentare posti e luoghi dove conosci persone perché altrimenti rischi di incastrarti e arrugginirti anche a livello di dinamiche sociali cosa fondamentale quindi che tengo a sottolineare rimanete dentro casa ovviamente state state tranquilli tanto questo era secondo me già preso bene al dia della digressione vi ricordo che potete iscrivervi al canale trovate ovviamente i link in descrizione e noi ci risentiamo al prossimo video spero che vi sia stato d'aiuto